Di vieto di uso di tablet e pc portatili oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità e a partire dal 1 gennaio 2022 sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli rosa riservate al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell'auto rifiuti o altri oggetti. Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto legge infrastrutture e trasporti convertito in legge dal Parlamento entrano in vigore da oggi le novità introdotti nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale e economico perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto via la nuova regolamentazione dei monopattini elettrici. Divieto dell'uso di tablet mentre si guida. Il divieto ora espressamente previsto per i telefonini si estende all'uso di computer e portatili, notebook, tablet e qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un minimo di 165 euro a un massimo di 660 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette un'ulteriore violazione nel corso di un biegno. Persone con disabilità raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili. La multa va da un minimo di 160 euro ad un massimo di 672 euro. Dal 1 gennaio 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultano occupati. Stalli rosa e altri posti riservati. Il sindaco con propria ordinanza può disporre parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale. Il sindaco inoltre ha la facoltà di riservare posti per il parcheggio di veicoli elettrici mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a determinati orari e adibiti al trasporto scolastico. Ci sono da sempre gli automobilisti incivili, non solo nella nostra città, ma questo è un problema che è esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto la FISH, che è la Federazione Italiana Superamento Handicap da anni, stava combattendo per avere questo inaspiramento delle pene e sono riusciti. Tra parentesi la FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap e io sono il referente per la Regione Marche. L'inaspiramento riguarda l'importo della multa che va da 180 a 650 euro, l'inaspiramento del numero dei punti tolti della patente che vanno da 2 a 6, più la rimozione che varia da comune a comune, però in genere dai 250 ai 300 euro. Ecco Presidente, ad Ascoli Piceno questa legge è già stata applicata? Sì, sì, è stata già, i vigili urbani hanno fatto proprio a questo decreto e stanno attivando questa nuova regolamentazione e questa nuova modalità di sanzione. Purtroppo il problema è che noi dobbiamo e dovremo, noi persone con disabilità, continuare a segnalare alla centrale dei vigili urbani queste mancanze da parte dei coloro che parcheggiano. Io sono di un avviso che purtroppo oramai in Italia l'unico modo per risolvere questi problemi è la coercizione, cioè aumentare le sanzioni, perché per quello che riguarda la sensibilità, la mancanza di sensibilità, ho messo una pietra sopra, perché oramai non è più derogabile il fatto che si debba in maniera coercitiva multare queste persone. È lo stesso identico problema che c'era prima con le cinture di sicurezza. Le cinture di sicurezza hanno diminuito fortemente i danni dopo un incidente stradale e tutto è stato attivato non perché c'è cambiata la coscienza civica delle persone, ma perché la sanzione è aumentata. L'altro problema grosso che non è solo mio, ma che è degli anziani o delle mamme con i loro passeggini è il fatto che gli autisti guidano con il telefonino in mano, per cui già quella è una sanzione, senza la cintura e soprattutto il codice dell'asta prevede da oramai molti anni che in corrispondenza delle strisce pedonali il conducente deve fermarsi. Comunque e ad Ascoli come in altre zone d'Italia questo non avviene. In particolare se ci troviamo in dei viali che non sono sufficientemente illuminati, il pericolo è costante, per cui io non trovo un'altra soluzione se non quella della coercizioni. La multa è perché pensare di poter sensibilizzare il popolo, le persone a questo tipo di sensibilità, ripeto, io penso che non sia più possibile. Noi non possiamo più derogare a un nostro diritto che è sancito dalla legge e che permette a noi un minimo di vivibilità all'interno delle città. fra l'altro questo decreto ha liberalizzato la sosta nelle zone a parcheggio limitato a seconda delle città, per cui le persone con disabilità che hanno un tagliando per il parcheggio possono parcheggiare sulle famose strisce blu.